Esiste una circostanza più spaventosa di un figlio che sparisce. È una situazione orribile. Il peggiore incubo per ogni genitore. E se vi dicessi che un'altra adolescente del posto è scomparsa un anno fa? Si chiama Drea Spivey. La sua storia non è mai stata raccontata da nessun notiziario. Ho intenzione di trovare loro. E le persone responsabili di averle portate via. Sono undici, tutte scomparse negli ultimi quattro anni a Oakland. Ciò che è successo a Drea potrebbe succedere a chiunque dei vostri figli. Capisco quanto sia importante l'indipendenza alla vostra età. Ma l'indipendenza a Oakland può richiedere un patto con il diavolo. La polizia non ci aiuterà. Sto facendo pressione a più non posso per ottenere più risorse per Drea. Mentre ero in carica ho sostenuto un dipartimento di polizia a forno. Mi prego di perdonare l'interruzione. Anche mia figlia è scomparsa. Dite il suo nome. 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 Crediamo che Drea possa aver ricevuto alcuni regali. Nel mio ufficio, subito. Non credo sia una buona idea giocare a fare la detective con i tuoi studenti. Temo proprio che si tratti di qualcosa di più. Di più? Tipo cosa? Se pensi che serva a darci una chance di portarla a casa. Fallo. Mi chiamo Poppy Scoville. Questo potrebbe rovinare tutta la mia carriera. È la verità. Mi devi credere. Sani. Quale diavola è il tuo obiettivo? Le persone mostrano ciò che vogliono che il mondo veda. Vorrei potermi fidare. L'hai mai fatto? Cosa succede se scavi a fondo? Spero che mi seguirete in questo mondo. Non importa dove condurrà. Spero che mi seguirete la mia carriera. Grazie a tutti